Buongiorno e benvenuti sul mio canale Paristi in Cucina. Io innanzitutto vorrei togliere una piccola curiosità ai miei amici perché mi hanno chiesto spesso come mai non mi si vede durante le preparazioni ma soltanto i piatti o le mani. Il motivo è questo qui. Eccolo qua. Purtroppo ho un angolo cottura e questo è il mio unico appoggio. Però mi sto organizzando per risolvere la cosa. Detto questo io non ho aperto il canale solo per condividere con voi le mie ricette e i miei piatti ma anche le mie esperienze e le mie conoscenze perché sono oltre 20 anni che vendo prodotti speciali alimentari per la ristorazione e quindi in futuro farò anche dei video su per esempio quale taglio di carne scegliere per fare un brasato piuttosto che una tagliata oppure qual è la differenza e quali sono i metodi di cottura di un baccalà piuttosto che di uno stoccafisso e così via. Quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanella che trovate qui sotto per non perdere i miei video settimanali se poi vi sono piaciuti mettete un like ma soprattutto commentate, scrivete, domandate e io vi risponderò. Grazie! Papà, ma non ti sei presentato? No, come non mi sono presentato? Eh no. Io sono Paris, Enrico Paris. Paris in cucina.